Quarta strategia Paolo. Quarta strategia, come anticipato prima cerchiamo di alternarci, quindi do una carta verde sul petrolio, quindi ci spostiamo, andiamo dal tech, andiamo a finire sulle materie prime, ovviamente il caso delle materie prime, così come il prezzo del petrolio, così come il prezzo del natural gas è ormai sulla bocca di tutti. L'inflazione sta giocando un fattore comune molto importante per l'aumento dei prezzi, vedo un livello di ingresso quasi da manuale a 77 dollari, che comunque va a coincidere con una vecchia resistenza, quindi mi aspetto da questi livelli, visto che sta correndo molto ultimamente il petrolio, anche per quanto riguarda le stime della produzione del greggio, per quanto riguarda anche le stime di molte banche d'affari, che lo vedono insomma a rialzo del più 50% per il 2022. Quindi cercheremo di entrare a rialzo da 77 dollari, come dicevo, uno stop loss previsto a 72 dollari e 60 centesimi, infine un target a 85 dollari. Da questi livelli mi aspetto comunque un ritracciamento che credo possa essere fisiologico, visto che sono diverse settimane che il greggio sta correndo all'impazzata, quindi possiamo aspettarci comunque un ritracciamento.